As-salamu alaikum, ho munasaba, wa he mezukume, nandadaru ya fevurie, joparli elangliahatu, ya komod, na minga mjokayavo, as-marhaba. All'occazione della giornata internazionale della lingua maternale, la comune organiza il 16 febbraio una giornata festiva, io i sarò e voi potrete venire quando potrete. Buona giornata e grazie mille. Matri Subanka come i din manaya jarahai, ora ha amara shahe pur gioste il kese istin ko manara hai. Me to ahongi, kia apahengi? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.